Buongiorno a tutti, do subito la parola all'assessore della cultura Filippo Del Corno per un saluto. Grazie, buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti in questa giornata che abbiamo deciso di dedicare come sistema bibliotecario della città e colgo l'occasione per ringraziare il direttore Stefano Parise a quello che viene definito almeno dal titolo un milanese non tanto regolare, ovvero sia Umberto Simonetta. Certo che capire che cos'è invece un milanese regolare mi è piuttosto difficile, anche perché se dovessi dire un tipico milanese userei proprio forse una figura come quella di Umberto Simonetta. Per le tante caratteristiche che ne hanno fatto un testimone straordinario e insostituibile della nostra città grazie alla sua straordinaria capacità ironica che a volte era anche acidamente corrosiva, come è giusto che sia quando si applica il registro dell'ironia e come credo si addica a chi è appunto tipicamente milanese. Di fatto raccontare e ricordare la molteplicità degli interessi e poi evidentemente anche della produzione letteraria e teatrale di Umberto Simonetta è molto complesso perché si tratta davvero di una molteplicità di registri, di stili, di linguaggi che hanno prodotto nel corso degli anni e di diverse sfaccettature che noi oggi possiamo cercare di catalogare e equilibrare all'interno appunto di un percorso che però inevitabilmente sacrificherà qualcosa. E qualcosa che viene sacrificato è forse la dimensione teatrale di Simonetta che viveva anche moltissimo del rapporto diretto che aveva con i suoi interpreti e con i suoi interpreti preferiti dei grandi testi che l'hanno reso celebre, dove inevitabilmente una componente quasi di improvvisazione, di invenzione testuale legata anche alla cronaca quotidiana diventava elemento imprescindibile del suo lavoro. In questo aspetto credo che sia estremamente importante ricordare come anche dei grandi autori della musica classica noi per esempio perdiamo tutto ciò che riguardava l'improvvisazione e possiamo soltanto affidarci appunto a ciò che rimane propriamente nel testo scritto. Una connotazione che vorrei ricordare appunto di Simonetta che mi sembra, che ho cercato prima di evocare, ma che mi sembra appunto determinante per capire in cosa si possa definire tipicamente milanese la sua figura, era, ed è oggi a rileggerlo, l'assoluta, uso questo termine non con connotazione religiosa o non religiosa, guardate bene, l'assoluta laicità del suo sguardo, cioè uno sguardo che era sempre estremamente laico, ovvero disincantato, spregiudicato nel senso che era privo di pregiudizi e questo penso fosse una grandissima virtù, il che permetteva appunto di esercitare il suo lavoro con una precisione che è quasi tagliente in certi casi, sembra quasi appunto di assistere all'incisione di un bisturi, ma proprio perché appunto l'atteggiamento era l'atteggiamento di chi ha questa capacità di conservare un laicismo dello sguardo che gli impedisce di essere, e gli evita soprattutto, di essere, come si può dire, sbilanciato nelle sue valutazioni e nel modo che ha di leggere la realtà e poi di restituirla e di raccontarla. Almeno questa è la lettura che do io del lavoro di Simonetta, naturalmente per me ci sono molti ricordi legati alla sua attività teatrale, soprattutto di quando io, avendo avuto la fortuna di essere un bambino che andava già a teatro piuttosto giovane, grazie a mio padre, ricordo appunto testi e occasioni in cui ho incontrato il lavoro di Simonetta direttamente sul teatro. Chiaramente è molto importante il lavoro letterario e tra l'altro ricordo che il nostro sistema bibliotecario ha prodotto la ripubblicazione in ebook del libro Lo Sbarbato, rendendo così disponibile questo lavoro molto prezioso che il nostro sistema bibliotecario fa, un testo che altrimenti rischiava di andare per essere fuori catalogo in un certo senso un po' perduto e dimenticato. Il sistema bibliotecario ha iniziato questo lavoro, ha già fatto anche un titolo di Oreste del Buono, a ripubblicare in ebook e quindi rendere disponibilità disponibili appunto testi, come nel caso quello che prima ho citato di Simonetta. Il programma della giornata è molto ricco, molto articolato, ci sono testimonianze di grande qualità e di grande valore, quindi penso di non poter aggiungere davvero nulla, se non porgervi le mie scuse per non poter essere presente, ma oggi è una giornata veramente molto scandita da impegni istituzionali, come purtroppo spesso accade, e non potrò condividere con voi questo pomeriggio, ma vi auguro davvero di passare queste ore in compagnia di Umberto Simonetta e di ciò che è rappresentato per la nostra città, e forse alla fine, da questo milanese non regolare, avremo un'immagine bellissima della nostra Milano. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento particolare all'assessore Filippo Del Corno, anche perché ha i suoi numerosi impegni, ha inserito almeno questa presenza, veramente grazie di cuore. A me tocca iniziare, in realtà la regia, non ho capito bene cosa devo fare, questo è un bello della diretta, è una situazione già simonettiana, io mi andrei a sedere, semplicemente perché essendo un po' prof, un po' secchione, ho preparato un intervento che in realtà non svolgerò se non per pochi flash, per non togliere spazio e soprattutto tempo ai relatori che arriveranno dopo. Voglio però anzitutto ringraziare il sistema bibliotecario di Milano per l'organizzazione di questo evento, quindi Stefano Parise e in particolare anche Sergio Seghetti che ha davvero lavorato con grande determinazione e nei mesi preparatori di questo incontro è andato alla caccia di reperti simonettiani, appunto con grande attenzione, sistematica. Voglio ringraziare la Fondazione Felsinelli che ci ospita e voglio ricordare anche e ringraziare il Dipartimento di Studi Letterarii, Firologici e Linguistici dell'Università di Milano che ha collaborato e patrocinato questa iniziativa. Appunto cercherò di dire poche cose prima di dare inizio alla sequenza dei relatori che come ricordava l'assessore sono tutti di grande livello. Mi limiterò a fare qualche rapida osservazione che a me sembra abbastanza importante. Anzitutto è vero, Simonetta ci appare come uno scrittore milanese e questa è la connotazione con cui viene sempre ricordato. D'altra parte penso che sia necessario sottolineare la sua cultura cosmopolita, una cultura internazionale che è anche legata al fatto che è la sua biografia. Ha studiato in Svizzera, il padre era un esule antifascista, conoscevo molto bene il tedesco, ha studiato in Svizzera, in Germania e qui non so se Luca Simonetta Sanzi mi confermerà, però io ho trovato che era anche amico di Simone de Beauvoir e di Sartre, comunque li ha frequentati. E mi ha colpito, rileggendo alcune delle sue cose, come spesso emergesse il tema dell'essere straniero. qualcosa che in parte può sorprendere, ma certo è in sintonia con il tono che è un po' di tutta la scrittura simonettiana. Addirittura il protagonista del Giovane Normale dice proprio «Vorrei essere straniero tutta la vita». Ci sono tanti tratti che potrebbero essere ricordati. Io comincerei da quell'atteggiamento, come posso dire, in cui Simonetta ha spesso sottolineato la difficoltà a ottenere un riconoscimento del proprio lavoro. Leggo una sua citazione, così mi libero dalle responsabilità affidando all'autore stesso le affermazioni. Cito da «A se fossi normale», un tema che ritorna a quello della normalità, a quello della regolarità. Scrive Simonetta «Sono un autore italiano», cioè il personaggio che parla, che si rivolge a un altro personaggio che si chiama Francesca, «Sono un autore italiano, è come essere un negro in Sudafrica». E mi sembra già un'affermazione molto netta. Come posso dire, noi siamo qua anche per ridare almeno in parte a Simonetta quel che è di Simonetta, per restituirgli un riconoscimento critico che tutto sommato la comunità letteraria fa fatica a dargli. Credo che questo abbia a che vedere con la varietà stessa delle sue scritture, con la molteplicità di quello che ha fatto. I letterati ogni tanto sono un po', come dire, hanno la puzza al naso, perdonate il termine, nei confronti delle scritture di canzonette, di varietà, di sceneggiature varie. Ci sono dei pregiudizi antichi sulla scrittura che ritornano nel momento in cui ci accorgiamo che Simonetta non ha avuto dal punto di vista critico quello che meriterebbe. E d'altra parte vale la pena di notare che Simonetta è uno scrittore che, proprio perché ha praticato tanti generi, ha una dimensione sperimentale molto forte, che anche gli andrebbe riconosciuta. I suoi tratti rimandano certamente a un certo tipo, questa volta sì, di letteratura lombarda, con un'attenzione fermissima alla realtà che fa tutt'uno con lo sperimentalismo. Potrebbero essere fatti tanti nomi, a me vengono in mente certamente, è ovvio fare il nome di Gadda, ma forse piuttosto avrebbe la pena di fare il nome di Testori, o quello di un emigrato non milanese, ma che a Milano ha vissuto e scritto come Luciano Bianciardi, o quello ancora di Emilio Tadini. Farei quasi una butade, nel senso che il destino e anche l'identità, per certi aspetti, critica di Simonetta, io la metterei, e davvero è un po' una butade, ma prendetela con le pinze apposta, fra Testori e Marcello Marchesi, per dire così, cioè da un lato uno scrittore di riconosciuto spessore, e da un altro lato uno di quei poligrafi che appunto hanno fatto tantissime cose e faticano a essere riconosciuti anche come scrittori. Credo che di Simonetta però vada sempre sottolineata comunque la forza e anche la qualità letteraria, ne parlavamo poc'anzi con Umberto Fiori, ne parleremo un po' in tutto il pomeriggio, un libro per esempio come Tiralmattina, ha uno spessore difficile da mettere in discussione. Credo, e di nuovo perdonate se lo faccio solo per flash, che in fondo tutta la scrittura di Simonetta sia profondamente teatrale, anche perché tutti i testi narrativi mettono in scena una voce narrante. C'è qualcuno in scena che parla. Forse sempre, non rifatto il censimento, ma anche rileggendo i suoi racconti, i suoi romanzi, quasi sempre c'è appunto un personaggio che parla. Ma uno dei tratti caratteristici della scrittura di Simonetta è che i personaggi che vengono messi in scena sono dei personaggi in qualche modo screditati, non autorevoli, non attendibili, che ci danno una viva percezione, vivissima percezione dell'universo sociale, ma a partire appunto da uno sguardo che sta a raso terra, o perlomeno che non ha a prima vista almeno le competenze e le capacità di elaborare quello che gli sta succedendo intorno, che ci obbliga a partecipare al suo universo di valori. Di questo discutevamo qualche giorno fa, in particolare con Luca Daino, l'Aldino di Tiralmattina è qualcuno che da un certo punto di vista è considerato un infame, un personaggio tremendo, ma ce ne sono tanti altri che sono variamente inattendibili. Ma credo che questo sia uno degli elementi forti di quello che ha fatto Simonetta, cioè l'obbligarci a scendere nella prospettiva di un personaggio che vive dall'interno una certa realtà e non la vive rielaborandola in modo astratto, in modo colto, in modo diciamo così superiore. Qui ho davanti tutto un discorso sulla varia produzione di Simonetta, su quella romanzesca, appunto non lo farò, mi esimerò dall'entrare in troppi dettagli, però voglio soltanto ricordare al volo i suoi sei romanzi, trilogie, le tre raccolte di racconti, la ricchissima produzione di varietà e di rivista, sentiremo dalla voce di Vittorio Zucconi, per esempio Sodalizio di scrittura con Guilamo Zucconi, e i nomi che sono stati, come dire, riforniti dai testi di Simonetta, sono spesso nomi importanti, cito solo al volo Gino Bramieri, Ottino Scotti, cito la collaborazione con Enrico Vaem e la collaborazione con Paolo Villaggio, che tra l'altro fu scoperto da Marchesi, è qualcosa che unisce Marcello Marchesi e Umberto Simonetta, e ha collaborato alla creazione di quei personaggi di Fracchia e di Fantozzi che fanno parte ormai stabile del nostro immaginario collettivo. Ancora vorrei ricordare, ma molto al volo, le sue produzioni teatrali, per esempio quelle degli anni settanta, è stato, probabilmente dopo aver capito che Simonetta era autore di testi di canzoni di Gabriel, la seconda cosa che di lui ho conosciuto, i monologhi fatti durante gli anni settanta, che sono strepitosi fin dal titolo, i monologhi che poi furono messi in scena da Livia Cerini, i titoli come Sta per venire la rivoluzione e non ho niente da mettermi, o fosse ancora più geniale, mi riunisco in assemblea, che la dice lunga su un certo monologare autistico in qualche modo di una certa sinistra. E ancora tutta la sequenza delle opere teatrali che sono raccolte in quell'Oscar purtroppo introvabile che si intitola A se fossi normale, dove c'è il testo monimo, ma ce ne sono degli altri, come c'era un sacco di gente soprattutto giovani, c'è comprese le mamme e le sorelle, un altro titolo molto simonettiano, e il celeberrimo Mi voleva Streller. Corro veramente, si potrebbero dire tante cose di questo teatro, qualcuno ha parlato di un monoteatro per la tendenza ai monologhi, ma non c'è solo quello, Enrico Filippini ha parlato di un teatro di battuta e secondo me anche questo può essere una definizione riduttiva. Io vorrei sottolineare che il teatro di Simonetta, anche con la sua apparenza così scanzonata e leggera, è anche quasi sistematicamente o molto spesso un metateatro, dove vengono comunque messe in scena le condizioni dell'attore e penso in particolare a Mi voleva Streller con l'alternanza fra il racconto dell'incontro con Streller e le barzellettacce che questo attore di basso cabaret pronuncia in un localaccio. Tante cose ancora mi piacerebbe ricordare, per esempio che spesso i personaggi che vengono messi in scena sono personaggi giovani e questo forse contribuisce a screditarli, ma d'altra parte contribuisce a determinare una certa percezione del mondo sociale intorno. Ancora che questi personaggi sono spesso portatori di un profondo ressentiment. Forse il risentimento che fa tutt'uno con la critica sociale è un elemento portante di queste rappresentazioni, ma di nuovo il gioco di Simonetta è molto abile perché fa sì che questo stesso rancore sociale sia però rappresentato da qualcuno con il quale è difficile immedesimarsi. L'ossessione del tema dell'integrazione, o meglio della non integrazione, stavo per dire della disintegrazione, è evidentemente sottolineato dal ricorrere dei termini, li abbiamo già ricordati tutti, come regolare o normale, che alludono di nuovo alla difficoltà di sentirsi pienamente parte di un certo scenario sociale, e di un'Italia che si vorrebbe bella, ricca e felice, ma i personaggi non si identificano con questa rappresentazione. E c'è un ampio scenario di classi sociali che vengono rappresentate dai personaggi che Simonetta ha costruito. Io insisterei sul fatto che questi personaggi sono personaggi con cui è difficile identificarsi, perché questo fa tutt'uno con una rappresentazione che trova la sua forza anche perché non ci lascia in pace, per dire così. Cioè ci divertiamo ma non riusciamo a tranquillizzarci in alcun modo. Negazione dell'empatia, lo dico in modo se volete fin troppo classicheggiante, significa negazione della catarsi. Davanti a tutto quello che Simonetta ha scritto e ha messo in scena, non abbiamo lo spazio per piangere di consolazione. Anche quando ridiamo è un riso che continua a lasciarci inquieto e appunto ha a che vedere con quella mescolanza di comico e di tragico, che mi sembra sia un tratto portante di Simonetta e di tanta grande letteratura del Novecento e oltre. Io qui mi fermerei, vi ho già portato via troppo tempo, prima di avviare il dibattito però do la parola a Tonino Curagi che ci racconterà della video intervista che stiamo per vedere. Grazie, buon pomeriggio. Sinteticamente quello che vedrete ora è un rimontaggio, una circa 19 minuti, di una lunga intervista che facciamo a Umberto nel novembre del 96. Era stata realizzata per un documentario che Anna Gorio ed io, Anna è qui con me, realizzammo appunto nel... poi fu editato nel 97, prodotto dalla provincia di Milano sotto la sollecitazione di Massimo Cecconi, che era allora funzionario della provincia di Milano. Per contestualizzare, il documentario si chiamava Mala Milano, dalla ligera alla criminalità organizzata. Quindi tutto quello che vedrete, tutte le domande che noi facciamo a Umberto, che frequentiamo per qualche mese nell'autunno del 96, prima di poi costringerlo in un'automobile a girare per due ore per Milano, sullo sfondo vedrete le immagini, cioè insomma le strade di Milano, erano chiaramente delle domande che avevano a che fare chiaramente con Tirar Mattina, chiaramente con Lo Sbarbato, cioè i due romanzi in qualche modo che toccavano gli argomenti che avevano a che fare con il nostro documentario, che come ho ripetuto era legato diciamo alla vecchia malavita. Solo questo e spero che... buona visione. Grazie. E quindi dopo questo bel video, questa bella videointervista, mi tocca riprendere la posizione, però a questo punto non sarò più solo, perché chiamo anche i relatori, che ringrazio per aver accettato di essere presenti a questa serata, così come ringrazio tutti i presenti, e permettetemi di fare un saluto specialmente affettuoso a Vittorio Spinazzola, che è qui davanti a noi, maestro di tanti, qui presenti e non presenti. E quindi invito, diciamo così in ordine di apparizione, però mi sembra che le sedie siano in numero giusto, la regia è del tutto improvvisata, la sto facendo io adesso, quindi è tremenda, e quindi chiamo Umberto Fiori, Luca Daino, Alberto Bentoglio, Piero Colaprico e Andrea Aveto, vi obbligo a stare qui con me, a tenermi compagnia. I lavori procederanno, come vedete dal programma, con due relazioni e poi una lettura di Luca Sanzi, alla fine sarà una sola relazione, io davanti a me l'orologio, una ventina di minuti per ciascuno dei relatori, so che l'impresa di parlare con un tavolino basso così è un'impresa particolarmente adua, ma ci proveremo tutti. Grazie. Grazie.